Buonasera Sardegna, la terza giornata giurata contro l'SSU 137 per questi ultimi, migliori in campo Cantemmo, consegniamo una medaglia, complimenti Simone, partita tosta, sovrattito di primo tempo dove avete un posto affetto, gli avversari, gli hanno messo un fuoco, la cosa invece ho già fatto, un po' come la riviesa al controllo della Mazzola, la vede del gioco, un po' ti guardiamo fissato solo in questa vita. Sì, in primo tempo come sempre soffriamo sempre, migliorare, però nel secondo tempo, in questo momento sempre giocavo sempre meglio, dovevo continuare così, però dovevo migliorare nei primi tempi. Senti, la squadra pensi che va bene così o c'è qualche concorso un tattico o abitura dopo la terza giornata giunge con giocatori di qualità o va bene così? Beh, io credo che la squadra sia bene così, però se io, la legge, la legge, la legge. Qual è l'obiettivo collettivo, hai l'obiettivo personale? Eh, fare più gruppo, capocannanieri, va bene, vuoi fare una dedica speciale, a nessuno, complimenti alla Russia, ciao ragazzi.